E' andato molto bene, è stato un viaggio molto bello innanzitutto per il posto, perché Ischia è veramente un posto magnifico, non solo per quello che offre gastronomicamente parlando, ma proprio anche i posti da visitare, le eccellenze che hanno all'interno di quest'isola. Lo consiglio a tutti di fare un piccolo viaggio, perché veramente merita. La serata è stata fantastica, ho avuto anche la fortuna di incontrare Vizzari, che è il fondatore e il direttore della guida dell'Espresso, che ha molto apprezzato il nostro piatto. Sia Pasquale Palamaro che il Noi di Costanza, il fondatore della festa, sono stati molto contenti perché la festa ha raddoppiato rispetto all'anno precedente come numero di persone, quindi è stato un grande successo sotto tutti i punti. Che cosa hai presentato? Abbiamo presentato un piatto proprio tipico piemontese, i bassois, ovvero i piedini di maialino cotti in un brodo con le sue verdure, i suoi aromi, tritati, compressati, panati e fritti, sopra del foie gras e sotto unciatene di albicocche. Prossimo appuntamento? Allora, prossimo appuntamento proprio a breve, perché ci troviamo oramai vicinissimi a questo evento organizzato dal comune di Domodossola, ovvero Domosofia, tema la leggerezza, ci troviamo tutti quanti in piazza Mercato alle 5 e mezza, sarà un appuntamento legato alla cucina, in quanto saremo io insieme a Sormani, a Gianni e a Sartoretti e parleremo di questa leggerezza in cucina, quindi vi aspettiamo numerosi.